L'aria elettronica dei True Fridge In questo fantastico viaggio Siete pregati di Tantare Saltare Urlare Sbrattare Delirare Schierare Strippare di brutto Rispettate questi punti fondamentali Sarete pronti a Tour Inverse Prima Per iniziare Dovrete seguire Questi piccoli procedimenti Siete pronti? Non ci vedo ma sto ripetendo Io l'ho sentito Siete pronti? Almeno 3 Voglio sentire un urlo molto potente In modo tale Da rompervi il capillare del vostro occhio Pronti? 1 2 3 Ora siete pronti? È tutto il momento di presentarvi i protagonisti di questa serata Partiamo dal tuffico del Big Baker Ammetto che per me è un bello È il suono della musica dei True Fridge Voglio sentire un caffino della Madonna Come il mio prodotto preferito Io Ve lo farai di brutto sul divano di Casano Si suono Ma soprattutto si suono Ecco a voi Buonissima Siete pronti? Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti